Buongiorno Davido, oggi ci tenevo a flexare questa t-shirt, questa maglietta, la seconda del mio ciclo di flex di magliette che vengono dalla Cubecon, però questa è particolarmente bella. Questa, vedete, per chi sta guardando su YouTube o su Spotify in video, questo è un pezzo del famoso dipinto di Delacroix, la libertà che guida il popolo, mi pare, ovviamente si parla della Revoluzione Francese, e questa scritta, Join the Platform Engineering Revolution, questo parallelo meraviglioso tra la rivoluzione del Platform Engineering e la Revoluzione Francese, vabbè, è un po' buttata lì, eh, cioè, chi se ne frega, però è figo girare per strada con un quadro di Delacroix sulla maglia, non c'entra niente nella Platform Engineering Revolution. Questo l'hanno fatto i ragazzi di Humanitech, no, Humanitech è un team che crea software per il platform, per il platform engineering, insomma, servizi per il platform engineering, e hanno fatto questa maglietta, oltre ad altre magliette, io però volevo questa e quindi ho ottenuto questa. Peraltro, fan fact, questa maglietta gli è stata in qualche modo censurata alla CubeCon, cioè gli è stato chiesto di non mostrarla sul loro tavolo, di nasconderla, perché? Perché la libertà ha le tette, eh? Si vedono le tette della libertà? YouTube, posso mostrare le tette della libertà? Tette qui. Quindi, non so quanti si siano, si possano, ecco, imbarazzare, rimanere sconvolti dalla vista di tette di dipinte su un quadro di Delacroix. Eppure è successo, a Parigi hanno chiesto a dei ragazzi di non mostrare un quadro di Delacroix, perché c'ha il seno scoperto, una cosa ovviamente abbastanza imbarazzante, però in realtà me l'hanno detto loro, poi non so come sia andata effettivamente. Fatto sta che queste magliette erano nascoste, mi hanno detto, guarda, se vuoi ti faccio vedere questa ma non la potrei mostrare. Mi fido di quello che mi dicono, però in realtà degli altri mi hanno confermato questa loro versione, quindi se fosse così, ragazzi, dai, su, eh? Della qua. Eccola qua, visto che non la potevate mostrare alla CubeCon, la mostro qua. Questa è la libertà che guida la rivoluzione. Bene, volevo solo, ecco, flexare questa, una delle più belle magliette che mi sono mai portato a casa da qualunque conf. L'unico problema è che questa stampa mi terrà un caldo pazzesco, quindi la posso usare solo adesso, poi d'estate non si può, se no mi lascia tutto il rivolo di sudore su tutta la pancia, non è bello. Quindi, però per adesso va bene. Basta, oggi volevo parlare un po' di Linux, partiamo da GNOME, poi vediamo qualche altre notiziole interessanti nel mondo Linux, quindi direi di partire subito. Allora, oggi è il 27 marzo, questa news è l'età del 21, perché il 21 marzo è il giorno in cui GNOME 46 è stato ufficialmente rilasciato, parliamo naturalmente di GNOME 46, e come ci dice il sito da cui prendiamo questa news, che è Omegi Ubuntu, e poi vediamo anche un po' questo filmato, per chi sta guardando, questo è il filmato introduttivo di GNOME 46 che potete trovare su YouTube, sull'account di GNOME. Vediamo un po' una carrellata delle novità, soprattutto sulla user experience di GNOME, quindi gli aggiustamenti al file manager, poi altre cose che poi vedremo nei system settings, nel network manager, alcune app, e questo filmatino di una trentina di secondi si guida proprio con i ringraziamenti alla community che ha reso possibile tutto questo. In questo post, diciamo, di Omegi Ubuntu che va a lanciare GNOME 46 non c'è molto, c'è solo una carrellata delle novità, e quindi prendiamo un post sempre di Omegi Ubuntu che è di qualche giorno più vecchio, però è un pochino più ricco, cioè racchiude più review delle nuove feature di GNOME, aveva provato la versione beta di GNOME 46, però, insomma, tutte le fiche sono quelle abbastanza definitive. Partiamo dal file manager, che si chiama Files ufficialmente, però molte persone chiamano ancora Nautilus, anche se non è più il suo nome. Qui ci sono alcune modifiche di interfaccia, di UX, quindi funzionali, alcune invece più nel back-end, in background, che si notano soprattutto a livello di performance. Quelle più evidenti a livello proprio funzionale è che riguardano la barra di ricerca, cioè la ricerca adesso è splittata in globale e locale, un po' come abbiamo visto su KDE Plasma 6. Molte cose in realtà risuoneranno a chi ha sentito la mia news su KDE Plasma 6, risuoneranno un po' di cose e le ritroviamo anche qui. E questa è una di queste, cioè la ricerca ora è splittata in globale e locale, la globale si trova in alto a sinistra nella toolbar, e invece quella locale si trova di fianco alla destra del path della cartella corrente. Path che peraltro può essere cliccato per modificarlo manualmente, quindi potete cliccare sul path, a quel punto si apre in editing, potete modificare direttamente il path. Inoltre, come vedete anche dalla GIF che c'è sulla news di OMG Ubuntu, il cambio tra la vista elenco e la vista dettagli, la vista anteprime dei file di una cartella, adesso è un cambio che viene immediatamente, cioè non c'è più da aspettare il refresh, non c'è più da aspettare il ricaricamento di tutta la directory, ma appiene appunto immediatamente. Quindi un piccolo miglioramento alla UX. Altri tweak anautilus, la barra di avanzamento dello spostamento di un file, o di una copia di un file, adesso è in basso, in basso a sinistra nella toolbar, è un piccolo dettaglio che però se cliccato si espande, vi fa vedere il caricamento di tutta l'operazione, quindi con la classica progress bar. E inoltre, una piccola cosa che potrebbe essere utile ad alcuni, se provate a copiare un file più grande di 4 GB su una partizione FAT, naturalmente questa operazione non è permessa perché FAT non supporta i file più grandi di 4 GB, ebbene, adesso un autilus vi dice, no, questa roba non la potete fare, ve lo dice prima di arrivare ai 4 GB di copia e fallirvi in quel momento, fallirvi dopo, ve lo dice prima, così risparmiate anche il tempo della copia di quei 4 GB che non è permessa. Dopodiché ci sono alcune piccole migliorie, tipo un campo di ricerca nel pannello delle preferenze, e poi per esempio la creazione di file zip in cui vi chiede di ridare due volte la conferma della password. Va bene, su GnomeShell invece 46 ci sono alcuni tweak proprio di UX visuali, adesso il toast con tutte le notifiche è stato rivisto a livello grafico, per esempio ogni notifica ha un header che vi dice il nome dell'app da cui quella notifica arriva, e anche una piccola icona così ve la fa identificare meglio, inoltre se nella notifica ci sono dei pulsanti di azione, proprio degli action button, per esempio le notifiche dei player multimediali con i classici pulsanti per avanzare o fermarsi, ecco, oppure se quella notifica è parecchio lunga, contiene molto testo, adesso si può collassare, può essere collassata o espansa, ecco. Inoltre c'è anche un altro piccolo miglioramento che a qualcuno potrebbe fare piacere, quando smontate una chiavetta USB o un device USB, adesso la notifica che il device può essere rimosso sparisce dopo un po', una piccola cosa, c'è anche il raggruppamento delle notifiche, adesso c'è supportato il notification grouping, quindi proprio il raggruppamento di tutte le notifiche. Per quanto riguarda i settings, quindi le opzioni generali di sistema, c'è solo un po' di cambiamenti, un po' di novità, per esempio c'è un nuovo pannello che si chiama System, sistema, che raggruppa un po' di settaggi che prima erano sparsi tra vari altri menu e adesso si trovano tutti logicamente raggruppati in un unico punto, la stessa cosa che abbiamo già visto in KDA, per esempio regione language, time and date, user, remote desktop, secure shell, eccetera, quindi un po' di raggruppamento logico più facile da raggiungere. E poi trovate anche delle opzioni in mouse and touchpad, quindi potete abilitare e disabilitare il touchpad e decidere qual è il comportamento del touchpad che triggera il clic destro, potete disabilitare il touchpad mentre state scrivendo, cosa che potrebbe essere utile per non incappare proprio nel movimento del touchpad mentre si scrive, e una serie di altri fix, insomma di altre personalizzazioni che vi possono rendere migliore la vita sul vostro GNOME. Dopodiché c'è un cambiamento sugli online account, adesso su GNOME 46 il pannello del login sugli online account è stato un po' rivisto, tutti gli account aprono il browser di default, il vostro browser di default di sistema e vi permettono di loggarvi con quello, quindi si migliora anche un po' la security e c'è un nuovo tipo di account WebDAV che è stato aggiunto per sincronizzare magari i contatti, il calendario, per chi utilizza appunto servizi che offrono la possibilità di sincronizzazione attraverso WebDAV, c'è anche un nuovo account di tipo Microsoft Personal che vi dà la possibilità di accedere ai vostri file OneDrive da Nautilus. Ho detto Nautilus, bisogna vedere files invece. Poi naturalmente alcune migliorie alle app, alle core app di GNOME, quindi calendar, ci sono un po' di miglioramenti alle performance, miglioramenti anche al mini calendar che è embeddato nella sidebar, Maps ha alcune migliorie, soprattutto adesso i controlli, ci sono anche delle migliorie di UX, i controlli dello zoom sono in basso, insomma ci sono alcuni di questi miglioramenti, l'image viewer loop, music app, vabbè un po' di fix e tweak in generale, Epifany adesso legge il manifesto delle web app, quindi potete creare le vostre PWA, le progressive web app, scaricare un sito, rendere possibile l'accesso a un sito offline utilizzando appunto la feature PWA, adesso Epifany legge il web manifesto, quindi vi dà il nome e icona prese dal manifesto dell'app, vabbè tutto questo per dire che Epifany è stata aggiornata con questa roba, tra l'altro sapevate che Epifany è un browser WebKit, cioè Epifany utilizza una versione di WebKit GTK, cioè non utilizza il browser engine di Firefox o di Chromium, ma utilizza WebKit, quindi è il terzo polo, Epifany fa parte del terzo polo, insomma, così, una curiosità, perché per chi non si ricorda che Epifany, per chi lo usi, non so chi usa Epifany, però ecco, è WebKit sotto al cofano, quindi lo stesso di Safari, per dire, è lo stesso browser engine di Safari, anche se, insomma, portato su GTK, perché WebKit è stato portato in tante altre architetture, mi sto dilungando su WebKit, non interessa a nessuno. Allora, poi c'è un redesign della app Gnome Extensions, e poi la app Software mostra un badge, un badge di verificato, quando si vedono le app di Flathub che hanno un developer verificato. Oltre a tutto questo, altre piccole migliorie, per esempio, c'è una possibilità di fare remote login con RDP, se si tappa sullo schermo si fa click, quindi il tap to click sui touchscreen è abilitato di default, si può disabilitare, quando si fanno gli screen recording è stato aggiunto l'encoding in H.264, c'è un miglioramento al supporto del fractional scaling, con anche miglioramento alla resa grafica dei font, e c'è anche un supporto sperimentale per il variable refresh rate VRR, che può interessare alcuni miglioramenti alle animazioni, delle minificazioni, naturalmente nuovi wallpaper, che potete anche già scaricare, anche se non siete su Gnome 46, ma naturalmente tutta la serie di bug fixes, performance fixes, UI tweak, nuove traduzioni, cambiamenti a basso livello, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, ecco, questo per fare un wrap up, grazie a tutti gli sviluppatori che hanno collaborato a Gnome 46, questa è un po' la lista dei cambiamenti presi da Omegi Ubuntu, ve ne prendo qualcun'altra, giusto così, per completare, che vado a leggere su itsfoss, soltanto per dire che, ecco, questo è il nuovo sfondo di default, il nuovo sfondo viene in due versioni, la versione per tema chiaro e la versione per tema scuro, quella che state vedendo qua adesso è la versione per tema scuro, qui vedete anche un esempio di singola notifica con questa nuova UI, ecco, nuova, la UI migliorata con l'header, con l'app da cui deriva, l'immiglioramento naturalmente in Nautilus con il search button, il search local e il search everywhere, il nuovo menu system con le impostazioni, diciamo, riorganizzate per essere meglio accedute, e poi la configurazione degli online account che richiede di andare proprio ad aprire il browser per loggarsi. Questo è un po' altre cose, ho ridietto le stesse cose, però insomma, quello che nota di più, ecco, itsfoss, giusto per darvi, per completezza, ecco, per darvi anche il punto di vista di itsfoss su questa release di GNOME 46, che peraltro trovate, anzi, troverete su Ubuntu 24.04, ma troverete anche su un'altra distro che ora andremo a vedere. Ecco qua, raggruppo un paio di news in questa seconda parte che riguardano sempre Linux, e la prima appunto, quella della nuova distribuzione che includerà anche GNOME 46, ed è Fedora 40. Ci sono un po' di nuove feature su Fedora 40, che uscirà ufficialmente il 16 di aprile, però già sappiamo quali saranno tutte le novità, perché la beta è stata rilasciata proprio ieri, il 26 marzo, quindi è un update a Fedora che è abbastanza conservativo, cioè non c'è niente di rivoluzionare, non si cambia niente, c'è un po' di, insomma, un po' di reassessment generale, cioè ci sono un po' di cose che vengono messe a posto, soprattutto a livello di marketing, a quanto pare. Però, insomma, ci sono novità riguardo il software che Fedora vi porta, per esempio, il supporto a tutti i nuovi desktop environment, c'è GNOME 46, c'è KDE Plasma 6 di default, con Fedora 40, e poi gli Atomic Desktops. Naturalmente sapete che adesso Fedora ha fatto questa transizione da Immutable a Atomic, proprio una roba di marketing, adesso i desktop Immutable, basati su RPM o S3, si chiamano Atomic, ecco, quindi c'è un po' un revamp di questi Atomic Desktop, e naturalmente GNOME 46 l'abbiamo già visto, vi verrà distribuito di default con Fedora 40, con le, naturalmente, opportune, piccoli opportuni cambiamenti, proprio in Fedora, rispetto a quello che succede invece in Ubuntu, e arriva anche KDE Plasma 6, che nonostante non arrivi in Kubuntu, in realtà, arriva in Fedora 40, con, proprio di default, la sessione Wayland, che sapete che adesso è il default per KDE 6. Vi dicevo di Atomic Desktop, ecco, non troverete più la dicitura Immutable, ma quella invece Atomic, Atomic Desktops, quindi c'è tutta questa nuova famiglia di spin di Fedora immutabili, Immutable, che si chiamano adesso Atomic Desktops, quindi se vi interessa, trovate su, appunto, cercate Fedora Atomic Desktops, trovate tutta la lista delle spin Fedora Atomic, con questa nuova nomenclatura. Poi, Fedora 40 vi arriverà con il Linux Kernel 6.8, l'abbiamo visto, se volete andare ad approfondire, qualche news fa tutte le nuove caratteristiche del Kernel Linux 6.8, l'ultima release stable, e più qualche, una serie di piccoli cambiamenti tecnici. Quello più interessante riguarda la security, in realtà, perché, per esempio, in SystemD vengono abilitati di default i setting più stringenti di sicurezza, quindi i servizi di SystemD sono più isolati, sono più protetti dal resto del sistema, quindi per una sicurezza maggiore. E sempre riguardo la security, qui invece è una security che riguarda più la privacy, perché adesso, ogni volta che vi connettete a una wireless, a una Wi-Fi network, che ha il vostro indirizzo IP fisso, cioè anche se ha il vostro indirizzo IP fisso, quindi vi potrebbe riconoscere, vi potrebbe tracciare con l'indirizzo IP, in realtà però Fedora a basso livello cambia il MAC address, quindi l'indirizzo MAC del vostro device fisico, della vostra scheda di rete. Sapete che il MAC address è l'indirizzo fisico del device di rete. Fedora astrae questo livello e cambia il MAC address ogni volta che vi connettete alla stessa rete. In questo modo, chi volesse tracciarvi usando il vostro indirizzo MAC non potrebbe farlo perché cambia a ogni accesso. È una piccola cosa, ecco, però in certi scenari potrebbe risultare utile proprio a livello di privacy. Naturalmente abbiamo anche tutti gli aggiornamenti alle app di default e ai servizi di default di Fedora, quindi troverete Firefox 123, Ruby 3.3, PHP 8.3, Podman 5 e bla bla bla. Tutti gli aggiornamenti alle app che vi aspettate. Quindi Fedora 40 arriva il 16 aprile, ma potete già, se volete, provare la beta. E l'altra cosa di cui volevo parlarvi, prima di chiudere questa tornata di news su Linux, è un nuovo driver open source per le GPU Nvidia creato da Red Hat. Aspetta che ho detto Red Hat. Ecco qua, creato da Red Hat, dicevo. Red Hat naturalmente sono quelli che avevano creato anche il precedente, anzi l'attuale, driver open source Nvidia che si chiama Nouveau. Adesso questo driver invece si chiama Nova, è creato in Rust. È ancora in fase proprio di sviluppo, è appena iniziato lo sviluppo, però, insomma, è già abbastanza promettente. Sapete che lo scorso anno, lo sviluppatore di Nouveau, il driver open source per Nvidia, si è licenziato, ha rassegnato le sue dimissioni da Red Hat, diciamo, per ragioni personali, ha voluto un po' distaccarci, un po' smettere di lavorare, e quindi gli sviluppi su Nouveau si sono un po' interrotti, anche se Nvidia nel frattempo aveva rilasciato il kernel module per le sue GPU, insomma, in open source. Bene, che cos'è questo Nova? Quindi Nova è un driver completamente nuovo creato in Rust da un team interno in Red Hat guidato da Danilo Krumrich, software ingegnere in Red Hat, che l'ha annunciato su una mailing list. Come vi dicevo, è scritto in Rust, quindi sfrutta il nuovo supporto a Rust che c'è nel kernel Linux, ed è soltanto GSP, quindi è soltanto per le GPU e Nvidia basate su, appunto, GSP, che è il GPU System Processo, quindi quelle più vecchie che non hanno GSP, non supportano GSP, non potranno essere supportate, non potranno essere gestite da Nova, però per quelle rimane Nouveau, quindi proprio Nova si va, droppa la compatibilità, ecco, la vecchia compatibilità, e va a supportare soltanto le schede nuove, anche questo facilita naturalmente il lavoro degli sviluppatori, però il fatto di usare Rust, invece, è un po' un problema, perché naturalmente manca tutta una serie di astrazioni che avevano invece in C, non ce le hanno, quindi le devono creare loro in Rust, quindi questo è un pezzo che manca, i livelli di astrazione che ancora mancano, il supporto a Rust nel kernel Linux, da tutta la parte, è abbastanza giovane, quindi ci sarà un po' di lavoro da fare in questo, però poi Rust porterà tutta una serie di benefici, come per esempio la memory safety, un beneficio alle performance, eccetera, eccetera, quindi quando tutto sarà completo, avremo un nuovo driver per Nvidia open source, per le nuove GPU e Nvidia, basato su Rust, che si chiama Nova, e ce lo forniscono i ragazzi di Red Hat. Allora, link che vi consiglio di leggere, prendete questa abitudine, ogni giorno leggete una cosa, non deve essere per forza quello che vi do io, io vi do dei suggerimenti, poi se volete, però leggete almeno una cosa, almeno un blog post, un link, insomma qualcosa di interessante, questo consiglio, leggete una cosa, fa bene. Ecco, il primo consiglio che vi do io, è un post del 2019, che però in realtà è stato riaggiornato recentemente, si intitola Browser extensions are underrated, the promise of hackable software, è un post di Jeffrey Litt, che in pratica celebra la bellezza di poter personalizzare il web browser attraverso le extension, le estensioni, e la bellezza di questo pattern, ecco, di potersi creare su misura la propria app, in generale, è molto carino, è anche un pezzo sul software estendibile e personalizzabile, c'è un riferimento a Tim Berners-Lee, quindi all'idea originaria di web, di come deve essere il web, insomma, è un piccolo post carino che vi consiglio di leggere. E il secondo link che vi do è il What's New di Pico, versione 2, quindi le novità della versione 2 di Pico, che cos'è Pico? È un framework CSS, abbastanza minimale, cioè proprio in contrapposizione all'approccio di Tailwind, che mette molte classi nel vostro HTML, Pico invece vi lascia l'HTML piuttosto pulito, si concentra sul CSS, proprio vi da, usa le classi, insomma, si concentra sul CSS. Se volete avere un'idea un pochino di che cos'è, e che cosa fa Pico, per avere un'altra arma nel vostro toolset, andate a vedervi, a leggervi questo piccolo What's New, abbastanza breve, giusto per capire che cos'è Pico, che cosa fa, e che cosa introduce di nuovo nella versione 2, quindi What's New in V2 su PicoCSS.com. Ho finito qui, vi ricordo però che fra poco, quindi alle 13.30 a pranzo, oggi è il 27, quindi oggi 27 alle 13.30, sarò live sul mio canale YouTube, chiacchieriamo un po', chiacchieriamo un po' di CubeCon, magari vediamo un po' insieme anche alcune news che mi sono perso, perché appunto ero a Parigi la scorsa settimana, e magari recupero un po' dal backlog delle news che leggiamo insieme, commentiamo insieme, come è solito, insomma, se vi fa 13.30, sarò qua a chiacchierare con voi. Quindi grazie invece per avermi seguito e per seguire questo podcast, noi ci sentiamo. Alla prossima. Ciao. Grazie a tutti. Grazie a tutti.